Per la partita fra Fiorentina e Milan, buon pomeriggio da Cesare Barbieri e da Beppe Sevoldi Beppe con il Napoli in testa, la classifica e il Milan ha due punti, una partita interessantissima Fiorentina che però sta arrancando a metà classifica ancora a quota 18 Il Milan di Sacchi è una squadra che è sempre bella da vedere Sì, soprattutto per il Napoli i tre punti Sì, chiaramente Per Dall'Oglio, fermato, va sulla palla Filippo Galli, molto bravo Beppe Peccato questo passaggio sbagliato, era un passaggio se fosse andato a buon fine che poteva diventare pericoloso Donadoni si inserisce a calcia, la palla viene ferma, viene contrata Calcio di punizione però Toccare leggermente all'esterno e battere appunto Ancelotti Vediamo Donadoni e Ancelotti pronti a calciare, parte Donadoni Tiro centrale tra le braccia di Landucci È passata proprio in mezzo Nelle zone, negli spazi centrali della difesa del Milan Il colpo di testa, la palla controllata da Roberto Donadoni Il servizio ancora al centro Veramente, io sono convinto che ci divertiremo Corner in favore del Milan con Donadoni Poi Beppe su questo traversone di prima Di Tassotti dal fondo, torneremo ancora La battuta di Donadoni Verso il centro, impenna la palla di testa Per allontanare Pioli Poi ancora un colpo di testa Quindi allontana la Fiorentina Ma c'è il Milan sempre appostato su una trequarti Oro e Donadoni che manovra Mette in mezzo Donadoni per la testa E anche qui Beppe ci può essere un cross verso il centro Sì, lo metterà in mezzo questa palla Anche perché il Milan possiede grandi saltatori Non è un vantaggio per 1-0, è un vantaggiato Perché vuole colpire in contropiede E lascia il Milan all'iniziativa Eh, ha maggior ragione Con questo vantaggio, attenzione Coradoni, incrocia e la palla finisce fuori Scusa Cesare, ha fatto tutto bene Secondo me era troppo largo E lì è stato Doveva essere fortunato E gli vengono bene, gli vengo bene così Non lo so se è stato un invito da parte di Sacchi Milan a creare situazione Per poter entrare da quella parte Il pallone è controllato ora da Donadoni Cerca di andarsene a destra Qui c'è un fallo La battuta di Donadoni Lo scambio con Rijkaard Ancora Donadoni Su di lui c'è sempre dell'olio Questa marcatura dell'olio Mostra come ci sia qualche problemino Quando si marca a uomo Il colpo di testa di Van Basten Con la palla che finisce fuori Il corner di Donadoni A Moranducci Inquadrato, attenzione a Donadoni Porta la palla sul sinistro Il punto di punizione in favore del Milan Con il tocco di Donadoni Per la testa di Van Basten Ho fatto notare prima questo giocatore Che è migliorato tantissimo Da quando è arrivato al Milan Donadoni si porta a sinistra Mette in mezzo Rijkaard La conclusione La palla fuori Ha calciato bene Direi che ha fatto tutto bene Vediamo questa palla Come ho visto Che ha creato Tantissime occasioni Tantissime opportunità Il fallo qui commesso Mi pare che abbia fatto bene Sacchi a mettere in campo i vani Ma il Milan comunque si porta ancora in avanti Alla ricerca del pareggio Guarda cosa combina il Donadoni E poi si inserisce centralmente appunto Negli spazi lasciati da Massaro e da Van Basten Fa bene a cercarlo Però ecco non deve essere una cosa Gol personale Rijkaard Il tocco per Donadoni Ed indietro per Maldini Ancora per Donadoni Non ci sono Sempre con il Milan in vantaggio per 3-2 Tassotti Lo scambio con Donadoni Che oggi ha toccato moltissimi palloni Ma dall'altra parte Una bella scivolata Ha arpionato questo pallone E ha conquistato la palla E qui c'è Donadoni Che prova una sortita sulla destra Donadoni Donadoni in aria Donadoni davanti al portiere Porta vuota Rijkaard Rijkaard sul corpo di Dunga Vicinissimo al 4-2 Il Milan E' un'altra combinazione Ottima combinazione da parte del Milan In modo particolare Sviluppata da Donadoni Donadoni è stato bravissimo Ha saltato un uomo Ha aspettato Che arrivasse Rijkaard Però poi